Ora, noi possiamo pensare che continuiamo ad avere la stazione marittima in centro città, con le grandi navi che arrivano, con la chiusura di tutti i parcheggi, abbiamo perso i parcheggi del Molo IV e non li riavremo, e tutte le rive vengono chiuse ogni volta che viene una nave. Io gli avrei messo volentieri, ma non è detto che non si possa fare, il progetto della MSC del termine del crociere. Le crociere, arrivare in Piazza Unità, sono per tutti i terrestini e per me compreso un problema, tolgono i parcheggi. Sulla necessità di spostare la stazione passeggeri in Portovecchio, liberando gli spazi della marittima, sia la deputata del PD ed ex governatrice della regione, Deborah Saracchiani, che l'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scocci Marro, esponente di Fratelli d'Italia, sono d'accordo, così come una larga parte del mondo politico bipartisan nostrano. Il problema è che l'infrastruttura, già progettata dal colosso dello shipping MSC, è presente nei rendering dell'architetto Kipar, ma non è ancora contenuta invece nel progetto di Porto Vivo, in particolare nella delibera al vaglio del parlamentino di Piazza Unità. Una società dove l'automobile fa da padrona, pensare di togliere i parcheggi per mettere le navi da crociera è un problema e quindi andrebbe risolto con un termine, secondo me, in Portovecchio. Quella è un termine con tutti i servizi aggiunti, compresi un certo numero di parcheggi, ma anche dei servizi collaterali tipici delle stazioni marittime moderne e quindi io penso che quello si possa fare. Insomma, se ne era parlato con imprenditori importanti, con un imprenditore importante di poter fare proprio lì la stazione marittima, che sarebbe anche il modo per rivitalizzare, creare attività sul posto e comunque far sì che la città torni ad avere degli spazi utilizzabili, anche perché in questo momento, non so lei, ma quando si arriva in macchina in centro città c'è da farsi il segno della croce. Su questo sono d'accordo tutti, in teoria, tra centro-destra e centro-sinistra, che la marittima deve andare... Però non c'è. Però non c'è. Questo progetto non c'è. In questo progetto non c'è, peraltro, se la si volesse fare, bisogna deciderlo prima di realizzare Porto Vivo.